Si chiamano Archeocards, sono una serie di carte collezionabili che se inquadrate con uno smartphone grazie alla realtà aumentata visualizzano un reperto archeologico che si può osservare a 360 gradi. A realizzarle una start-up innovativa, la Kronos 4D, giovani professionisti crotonesi che puntano ad avvicinare i ragazzi alla storia e al patrimonio culturale del paese. Ugo Rendace. Accanto alla sirena alata prende forma l'elmo corinzio, ma anche Pitagora, simboli dell'identità del crotonese riprodotti virtualmente grazie al sistema innovativo utilizzato dalla start-up Kronos 4D, le Archeocards. Le Archeocards è il primo sistema in Italia di carte collezionabili per reperti archeologici in realtà aumentata che permette di visualizzare un reperto archeologico tramite il proprio smartphone a 360 gradi e ottenere anche delle informazioni storiche per quanto riguarda il reperto visualizzato. Carte da portare a scuola, a casa e che in tempo di Covid potrebbero incentivare l'interesse per i beni archeologici. In questo modo noi abbiamo la possibilità di portare la cultura al di fuori del museo e in questo particolare momento è anche uno strumento utile per quanto riguarda il distanziamento sociale. Il gradimento discorso alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico apre nuovi scenari educativi. In questo modo noi possiamo dare ai ragazzi un modo concreto di vedere e di toccare gli oggetti tridimensionali mentre stanno studiando, quindi il cellulare viene utilizzato in modo educativo, non più soltanto per lo svago o per navigare su internet. Le archeocarde sono parte di un progetto più ampio che coinvolge editoria e istruzione incentivandole alla realizzazione di un libro virtuale che dalla forma cartacea sviluppa elementi tridimensionali che danno la possibilità di materializzare i contenuti storici scientifici davanti ai propri occhi.